Il decreto legge Balduzzi si è occupato di tante cose, la questione della responsabilità penale medica. Qui la disposizione era scritta abbastanza bene. Il medico, l'infermiere o qualsiasi altro operatore sanitario deve, nella propria pratica professionale, attenersi alle cosiddette linee guida. Quando lo fa, anche se commette un piccolo errore, non può ricevere una condanna penale. La legge Gelli ha modificato questa disposizione e paradossalmente lo ha fatto in senso peggiorativo per la classe degli operatori sanitari. La colpa lieve del medico è scriminata, cioè diventa una condotta non punibile, solo quando l'evento si è verificato a causa di imperizia, non quando si è verificato a causa di negligenza o imprudenza, che sono le altre categorie della cosiddetta colpa generica.